Dopo l'entrata in vigore della legge sull'obbligo vaccinale da 0 a 16 anni voluta dal ministro della salute, le famiglie dovranno mettersi in regola con la certificazione delle vaccinazioni per l'iscrizione dei propri figli a scuola. Ma a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico continua ad essere alta la tensione mista al caos di informazioni relative al decreto della Lorenzin che ribadisce l'immunizzazione è il requisito necessario per accedere e molto importante presentare la copia del libretto delle vaccinazioni o un attestato che accerti la prenotazione. Sono però ancora tante e troppe le domande che affollano le menti di genitori e di educatori anche se il vademecum per le famiglie sembra chiaro. Per l'anno scolastico 2017-2018 il certificato di avvenuta vaccinazione va presentato entro il 10 settembre per nido e scuola dell'infanzia entro il 31 ottobre per gli altri gradi di istruzione. Chi presenta un'autocertificazione avrà tempo fino al 10 marzo 2018 per mettersi in regola. Le famiglie potranno dunque sottoscrivere un documento con cui o dichiarano di essere in linea con la normativa oppure manifestano la volontà di mettersi in regola secondo i tempi previsti dalla legge. Le famiglie devono andare dal pediatra o all'azienda sanitaria a prendere tutte le certificazioni e poi portarle a scuola per l'iscrizione. Per dubbi o ulteriori informazioni sono attivi il portale vaccini sul sito del Ministero della Salute e il numero verde 15 00.